Da du picchia lì, spalla e canestro, come è giusto che sia. Goss aveva un ammesso di riprendersi anche questo tiro, poi va da Spencer Nelson un po' debole, il suo problema è ributtato fuori ma comunque efficace. Palla che arriva Thomas Ress, che colpisce dalla lunga distanza la prima tripla messa a segno dall'ex capitano. Preoccupa di Goss, c'è Canadi Marcano d'anticipo. Attacco Reier, guidato come al solito da Goss, si apre Thomas Ress, la classica giocata l'abbiamo già vista nel primo tempo e questa va in replica esattamente in fotocopia.